Radio Pascoli Quest'anno, nella Domenica delle Palme, abbiamo ascoltato La Passione secondo Luca. Luca ricorda un episodio commovente. Uno dei due ladroni gli dice «Ricordati di me, Signore, quando entrerai nel tuo regno». La tradizione ci dice il nome di questo buon ladrone, di cui il Vangelo non ci dice il nome. Si chiamava Disma. Disma si rivolge a Gesù con queste parole. «Noi siamo condannati a morte giustamente, ma tu sei un innocente». Pensiamo allora a quello che ha nel cuore Disma. Disma ha nel cuore l'inferno, perché sente di meritare la morte, guarda la propria vita e prova un profondo disgusto. Eppure, anche se pensa a questo, Disma ha ancora fiducia. Si rivolge a Gesù e gli chiede «Ricordati di me, io sto per andare all'inferno, tu entrerai nel tuo regno, ricordati di me». A lui Gesù risponde dicendo «Io non voglio entrare in paradiso, nel mio regno, Disma senza di te, tu oggi entrerai con me in paradiso». E allora, tante persone oggi hanno il cuore all'inferno. Pensiamo a chi vive la guerra. Subito dopo di me parlerà Anna, una donna ucraina. Si vive la guerra con il cuore all'inferno. Pensiamo alla gente che è morta in ospedale sola. Il cuore all'inferno. Pensiamo a tanti ragazzi che vedono la strada del futuro chiusa. Il cuore all'inferno. Pensiamo quanta gente è sola, totalmente sola. Il cuore all'inferno. Nel nostro articolo di fede c'è «discese agli inferi». E che significa? Gesù risorto scende nei rinferi, nel regno dei morti, per liberare le persone dal regno dei morti. Prende Adamo ed Eva per i polsi e li tira fuori dall'inferno, dagli inferi. C'è un'omelia bellissima del sabato santo, un'omelia antica del secondo secolo, in cui Gesù risorto scende agli inferi, incontra Adamo e gli dice «Svegliati, tu che dormi, ridestati dai morti. Io, Cristo, sono venuto a illuminarti». Ecco allora, carissimi fratelli, sorelle, non si scende con il cuore all'inferno da soli. Possiamo stare tanto male, avere la percezione di stare con il cuore all'inferno, e chi di noi in certi momenti non ci si sente così. Allora, non si scende con il cuore all'inferno da soli, ma solo con Gesù. Quando Gesù scende nei nostri inferi, scende insieme con noi all'inferno, l'inferno svanisce, perché il Signore ci prende per i polsi, come fa come Adamo ed Eva, e ci tira fuori, ridonandoci nuovamente la luce, la vita, la speranza. E allora, ecco il nostro augurio di Pasqua. Buona Pasqua significa, anche se stai con il cuore all'inferno, non disperare, perché il Signore risorto scende nel tuo inferno per portarti fuori, come ha fatto con Disma. Auguri allora il Disma che è nel cuore di ciascuno di noi. Buona Pasqua a tutti. Cari miei fratelli e sorelle italiani, vi voglio dire, di fronte a questa bellissima festa Pasqua, a due parole. Prima, grazie del cuore per vostra solidarietà e aiuto che avete dato per l'Ucraina, per i profughi ucraini, ma non solo per l'Ucraina, ma anche per altre persone. E altro che vorrei dire, che in questi giorni, l'ultimo periodo, è difficile, è difficile rimanere tranquillo e calmo, avere nel cuore l'amore, avere nel cuore tranquillità, perché purtroppo sopra la terra si va, si combatte per la nostra l'anima, ma noi non dobbiamo dimenticare che il nostro non amico l'ha perso tanti anni fa, ha perso la sua forza, perché il Gesù è salito sulla croce per noi, per salvare noi, i nostri cuori. Allora io vorrei dire che il nostro cuore si può aprire verso il Gesù e aiutare a rimanere umani in questo duro periodo, solo con l'aiuto di Santo Spirito. vi chiedo, fatelo proprio questo, perdonate tutti che si può perdonare, perché non è mica voi che noi riempiamo il nostro cuore con cattiverie, con odio, con egoismo, ma noi siamo creatori umani, dobbiamo girare verso il Gesù, perché Gesù è nostra speranza, Gesù è nostra salvezza, Gesù è amore, Gesù è vita. Buona Pasqua a tutti e un abbraccio da tutti ucraini. Grazie a tutti.